Benvenuti a Mappamundi. Oggi è una puntata speciale, particolare all'interno di questo ciclo che dedichiamo alle basi americane. E ovviamente un capitolo importante della storia delle basi americane in Italia è il caso Sigonella. Ma il caso Sigonella ha un'importante prima parte, infatti l'abbiamo divisa in due puntate. In questa prima puntata parliamo del dirottamento, del sequestro dell'Achile Lauro che dà inizio a tutta la vicenda appunto del caso Sigonella. E ne parliamo con il generale Cucchi. Buongiorno generale. Buongiorno a voi. Allora devo prendermi qualche secondo perché devo ricordare che lei oltre a essere qui come membro del Consiglio Scientifico di Limes è stato, insomma il curriculum è lunghissimo, ricordo solo che è stato rappresentante permanente presso la Nato, l'Unione Europea, dell'Italia, del governo italiano, ma ricordo anche con un affetto che lei è stato il mio comandante al Centro Militare di Studi Strategici un po' di anni fa. Qualche anno fa. Qualche anno fa e mi fa piacere ricordarlo. Allora, lei è qui generale perché fu un testimone oculare della vicenda. Uno degli ultimi rimasti. Eh sì. E allora faccio una brevissima permessa, poi ormai insomma la cronica si sa, faccio una brevissima sintesi. Siamo al 7 ottobre del 1985, la nave da crociera dell'Achille Lauro viene sequestrata da quattro palestinesi. Nei primi momenti si sa pochissimo, tra l'altro è un caso abbastanza unico, ci sono pochissimi precedenti di un dirottamento della nave all'epoca. E' un dirottamento portoghese negli anni cinquanta. All'epoca era la moda, diciamo, dei dirottamenti aerei, no? Appunto l'Affatà, il fronte nazionale palestinese, l'organizzazione, l'OLP di Arafat diventa famosa proprio per i dirottamenti soprattutto aerei. E c'è quindi questo caso abbastanza inaspettato almeno in quel momento. E' una nave italiana, ovviamente c'ha circa 200 turisti a bordo di varie nazionalità, anche americani, e circa 300 membri dell'equipaggio. E lei si trova al Cairo? Perché lei in quel momento è l'addetto delle forze armate italiane presso l'EG. E sono arrivato da 20 giorni. L'ambasciatore è arrivato da 10 giorni, dopo essere stato ambasciatore a Mosca. Quindi affrontiamo questa situazione in un certo senso da novellini, ed è una situazione tale per cui quando finirà l'ambasciatore mi dirà che siamo diventati dei veterani in una settimana. E quindi è un esordio di fuoco, direi. Decisamente. Insomma, voi siete sera e ricevete una telefonata da… L'ambasciatore riceve una telefonata da Roma in cui gli dicono che un radioamatore scandinavo ha captato una conversazione da cui lui ha capito che c'è una nave italiana che è stata dirottata da turisti palestineri. Non si sa dove, non si sa come, c'è solo questa segnalazione. Tant'è vero che l'ambasciatore viene quasi scherzando da me e dai miei vice, o due vice, uno della Marina e uno dell'Aeronautica, ad aiutarmi. Viene da noi, noi siamo in quel momento a un National Day, l'ambasciata d'Indonesia, nel giardino, col bicchiere in mano, l'ambasciatore arriva e ci dice che è arrivata questa telefonata, per favore fate subito un controllo. Noi rientriamo nel nostro ufficio e controlliamo il movimento delle navi sui giornali egiziani e l'unica nave italiana che è in acqua egiziana e che si muove in acqua egiziana in quel giorno è l'Achille Lauro che si sposta, come faceva ogni volta che arrivava nelle sue crociere, da Alessandria a Port Said. Per cui telefoniamo, guardiamo gli orari, la nave dovrebbe essere arrivata, telefoniamo a Port Said al comandante del porto e gli chiediamo è arrivata l'Achille Lauro. Lui si mette a ridere, dice no, ancora no, ma è una nave napoletana, quindi è normale che aveva un po' di ritardo. E poi dopo un po' la nave non arrivava, noi continuavamo a chiedergli notizie e lui ci dice ditemi perché state telefonando, noi glielo spieghiamo e dopo un pochino ci chiama lui e con una voce completamente cambiata ci dice, e ricordo benissimo la frase, se è normale che come telegrafista abbiate un arabo che risponde con accento palestinese, va bene, tutto va bene, se non è normale siamo tutti nei guai. E in effetti eravamo tutti nei guai. E in quel momento abbiamo realizzato che la nave era stata dirottata. Era stata dirottata in acqua egiziana perché lo spostamento avveniva in acqua egiziana. Per cui uno dei primi atti che fu deciso dall'ambasciatore che io resi esecutivo fu quello di mandare l'aggiunto navale dell'ambasciata che aveva dei contatti, delle riconoscenze, eccetera, a Port Said, nascostamente in Borghese, in maniera tale che si mettesse in condizioni di intercettare tutte le chiamate dalla nave verso terra e da terra verso la nave, cosa che lui fece immediatamente. Per cui da quel momento noi avemmo in un certo senso la possibilità di seguire costantemente tutte le comunicazioni che partivano da questa nave dirottata. E poi progressivamente cominciarono a arrivare notizie anche attraverso gli egiziani, soprattutto attraverso il servizio militare egiziano che mi diede un ufficiale di collegamento con cui parlare della cosa costantemente. Il caso ha voluto che questo ufficiale di collegamento in seguito abbia fatto carriera e tanti anni dopo, quando io diventai direttore generale di un settore dei servizi italiani, me lo trovai come corrispondente perché era diventato il capo dei servizi egiziani. Allora, ricordiamo che siamo in questi anni, si usa il telefono, non è ancora l'epoca dei compiuti, dei telefonini, quindi con la nave si parlava via radio, ma voi, cioè poi è importante anche ricordare appunto le vostre funzioni perché lei rappresentava il Ministero della Difesa italiano, l'ambasciatore, quello degli esseri, poi scriviamo dopo. E non c'erano, in quel momento non c'erano buone, anche era un periodo difficile tra il Ministero delle Difese e il Ministero degli Eri, perché l'Italia aveva due linee politiche contemporaneamente, una linea politica di maggiore apertura verso il mondo arabo, verso il Mediterraneo, che era Andreotti e il Ministero degli Eri, e una linea invece che era strettamente e ferocemente atlantica, che era quella di Spadolini e quindi il Ministero della Difesa. Quando le due linee entravano in contrasto, poi interveniva la Presidenza del Consiglio, cioè Craxi, che tagliava il nodo guardiano. Quindi in quel momento noi ci troviamo a entrare nella crisi dell'Achille Lauro in una situazione in cui i due misteri si guardavano un pochino in cagnesco. Però la cosa non ebbe conseguenze con l'azione italiana né lì né al Cairo, in cui io e l'ambasciatore cooperammo al 100%, anzi direi al 150% da quel momento in poi, da quando si prospettò la necessità. È importante ricordare questo aspetto, cioè quel governo rappresentava proprio, direi, decenni di politica estera italiana, perché c'era in Andreotti la politica fino a Araba fatta, diciamo, in libertà rispetto all'alleanza con gli Stati Uniti, no, in deroga direi. Poi avevamo invece Spadolini, che rappresentava invece l'anima atlantica italiana, quindi allineata alle posizioni, e Craxi, che un po' mediava tra le due, no, anche perché lui si trovava in una situazione in cui anche lì il Partito Socialista italiano doveva anche un po' accreditarsi nei confronti degli americani sospettosi ovviamente del passato del Partito Socialista, che però in quel momento aveva completamente, diciamo, ovviamente cambiato linea politica rispetto agli anni precedenti. Quindi questa è proprio una situazione che rappresenta un po' la politica estera di quegli anni. E forse anche quella è una ragione per cui sarà proprio una nave italiana. Però quello che noi vogliamo sottolineare è di importanza, perché si ricorda sempre in questo sequestro di laureo i protagonisti, no, che sono l'Italia, ovviamente gli Stati Uniti e i palestinesi. Però un ruolo fondamentale ha avuto l'Egitto, che è stato sempre un po' commesso in secondo piano. L'Egitto è stata la vittima di questo dirottamento. La vittima di questo dirottamento perché, primo, perché il dirottamento è avvenuto sul suo territorio. Secondo, perché a seguito del dirottamento si è trovato in una condizione in cui è finito, in una condizione di estrema tensione con gli americani, che erano i maggiori sponsor della sicurezza egiziana in quel momento e, in un certo senso, anche i maggiori finanziatori della sicurezza militare egiziana tramite il prestito militare che veniva erogato ogni anno all'Egitto. Ma, oltretutto, si sono trovati anche in tensione con l'Italia. Perlomeno in un primo momento, quando successe Sigonella, l'idea egiziana fu che l'Italia potesse essere d'accordo con gli Stati Uniti e stessimo giocando una commedia del gendarme buono e del gendarme cattivo a loro beneficio per non dire che entrambi eravamo d'accordo nel dirottamento dell'aereo. Per cui all'inizio si sentirono vittime di entrambi i paesi, con un dispiacere enorme, oltretutto, perché erano particolarmente attaccate all'Italia. Il rapporto dell'Egitto con i paesi europei era un rapporto che aveva nell'Italia il primo protagonista in quel periodo. Era il paese europeo a cui si sentivano più simili, a cui si sentivano più legati e che maggiormente rispettavano. Per cui sensazione iniziale di grande delusione egiziana che cambiò completamente quando tutto diventò chiaro dopo Sigonella e soprattutto dopo la liberazione di Abu Abbas, l'invio di Abu Abbas in altri lini. Allora facciamo un passo indietro perché questa vicenda abbiamo il sequestro della nave, il dirottamento dell'aereo poi successivo di Abu Abbas e poi anzi direi che quasi il sequestro della nave è quasi doppio, poi spiegheremo perché. Però facciamo un passo indietro perché nei primi momenti già del sequestro del dirottamento succede una cosa incredibile. Prima di tutto passano subito direi quasi in secondo piano le iniziali richieste di dirottatori che poi alla fine addirittura vengono quasi dimenticate perché compare in scena appunto, lei l'ha citato Abu Abbas, cioè l'OLP. Compare in scena per sbaglio. Eh infatti, poi adesso ce lo racconta, però di fatto l'OLP, cioè Arafat, manda come mediatori due membri del diciamo del governo palestinese e uno dei due è Abu Abbas che poi dopo, dopo poi ucciderà lei quando. Questo è quanto sembra che Abu Abbas sia stato mandato come mediatore. Eh infatti, infatti adesso ce lo dice, però Abu Abbas poi si scoprirà dopo o prima ce lo dice lei insomma che in realtà è il mandante dei palestinesi perché spieghiamo un attimo, in sostanza Abu Abbas era il capo di una fazione palestinese che sosteneva Arafat diciamo nel governo palestinese. E che consentiva ad Arafat di avere la maggioranza all'interno però faceva una politica più estremista di Arafat, quindi era un diciamo un amico nemico e quindi c'era un meccanismo, un rapporto insomma delicatissimo. Però succede questa cosa insomma incredibile dove il mandante dei dirottatori, la mente del sequestro arriva in Egitto come mediatore palestinese. Beh dai contatti successivi che noi avevamo, tanto l'ambasciatore quanto io, con gli egiziani venne fuori come era andata realmente tutta la storia. E c'era stata inizialmente una richiesta di Andreotti ad Arafat di mandare dei mediatori. Arafat aveva risposto positivamente e Andreotti aveva comunicato la cosa anche agli egiziani. Gli egiziani avevano tranquillamente detto a Andreotti e Arafat ma che bisogno c'è di mandare della gente perdendo tempo. Quando abbiamo uno dei vice e dei collaboratori più stretti di Arafat, Abu Abbas che atterrerà qui al Cairo tra un'ora con un volo proveniente da Baghdad. E quindi Abu Abbas, Arafat che probabilmente non sapeva assolutamente del dirottamento eccetera e ha detto va bene. E Abu Abbas che nel momento in cui atterrò al Cairo con quel volo trovò i servizi egiziani che lo presero e lo presero di forza perché lui tentò disperatamente, sapendo benissimo che lui era il capo e non avanti, come capì quel che stava succedendo e che volevano usarlo come mediatore eccetera, tentò di opporsi ma in vano fu preso di forza e fu portato al tavolo delle mediazioni che fu messo in piedi immediatamente e a questo tavolo sedevano tre persone con un collaboratore ciascuna che le seguiva e io seguivo l'ambasciatore e poi c'era Abu Abbas con un altro arabo che non so chi fosse e dall'altra parte c'era Butoros Butoros Ghali che diventò poi segretario generale delle Nazioni Unite e che in quel momento era il vice ministro degli esteri egiziani. E la trattativa si svolge l'intorno e a un certo punto della trattativa venne chiesto ad Abu Abbas di contattare i palestinesi sulla nave, cosa che lui fece e lo fece trovando dall'altra parte un palestinese inesperto, a bordo della nave erano in quattro, uno stava col comandante nella sala ufficiali e con gli ufficiali due controllavano tutto l'altro personale e uno era attaccato alla radio e quello attaccato alla radio che tra l'altro era il più giovane, quello che poi fu costretto dai suoi compagni a ammazzare l'americano, Klinghofer eccetera. Si illuminò di immenso e come Abu Abbas cominciò a parlare, cominciò a urlare lei comandante ho riconosciuto la sua voce, come siamo felici di sentirla, noi intercettavamo a Port Said. Aveva usato uno strano termine arabo per cui inizialmente ci fu una discussione se questo termine comandante era un termine che implicava un comando e una dipendenza diretta eccetera. In effetti ci dissero i glottologi e gli interpreti che era quello e quindi da quel momento noi in realtà sapemmo che non stavamo trattando, noi e gli egiziani, perché anche gli egiziani ovviamente intercettavano le chiamate a bordo a terra, e sappemmo tutti che non stavamo trattando con un mediatore ma in realtà stavamo trattando col capo del comando. L'ambasciatore riferì immediatamente la cosa a Roma e da Roma gli dissero di continuare come se fosse soltanto un mediatore. Evidentemente Butors Butors Gali ricevette le stesse disposizioni e quindi ci fu intorno a quel tavolo una perenne commedia degli equivoci in cui ognuno sapeva che cos'era l'altro ma come diceva poi l'ambasciatore c'erano 426 vite in gioco che era il personale che era rimasto a bordo e quindi quello passava davanti a tutto. Allora intanto io vorrei mostrare alcune foto anche dell'epoca dove qui vedete appunto Achille Lauro con dei soldati appunto egiziani perché poi rimane, avrà in questi giorni di movimenti, si sposterà però di fatto rimarrà spesso a Port Said. Qui vedete appunto una foto della nave che riceve di fornire. La lunghissima passerella. Questa è una lunghissima passerella, è l'Achille Lauro insomma bellissima nave e qui vedete il comandante De Rosa che non c'è più, poi dopo è morto successivamente, che avrà un ruolo chiave poi nei rapporti. Che resse benissimo durante tutto il dirottamento. E qui vedete appunto la liberazione degli ostaggi, quindi festeggiamenti eccetera. E questo vedete appunto Abba Abbas, abbiamo parlato di lui, questa è una foto di anni successivi dell'Algeri dove rappresenta ancora il fronte nazionale palestinese, poi lui si rifuggerà in Iraq perché ricordiamo quella è l'epoca in cui le varie fazioni palestinesi hanno un protettore, uno Stato arabo come protettore che li usa poi nelle divisioni palestinesi, lui sarà sempre un po' quello filo iracheno e infatti poi la vicenda finirà perché sarà arrestato, sarà catturato nel 2003 con l'invasione degli americani in Iraq, lo troveranno appunto in Iraq, lo arresteranno e l'anno successivo anche in maniera diciamo molto chiara morirà in prigione e qui vedete in questa foto Arafat che proprio l'esequie a distanza in realtà, quindi il ricordo dell'alta dirigenza palestinese appunto di Abba Abbas che quindi continuerà ad avere questo ruolo particolare all'interno anche della dirigenza palestinese. Ma torniamo al sequestro, allora diciamo il sequestro in sé si risolve abbastanza velocemente, cioè c'è un accordo con i sequestratori per cui viene conclusa… La nave nel frattempo si sposta dall'Egitto, esce dalle acque territoriali egiziane, va in direzione della Siria, entra in acque territoriali siriane di fronte al porto di Tartus, lì mentre la nave è o in acque territoriali siriane o immediatamente fuori dalle acque territoriali avviene l'uccisione del povero Kingdorf. Ma questo voi lo saprete dopo insomma? Noi lo sappiamo dopo, lo sappiamo durante il dirottamento della nave ci arriva una comunicazione da Roma che ci dice a bordo gli americani sostengono che a bordo è avvenuta un'uccisione e che un americano è stato ucciso, ma la notizia non è confermata e non verrà confermata fin dopo la conclusione della vicenda, l'arrivo della nave a Port Said, la resa del comando palestinese quando gli americani che hanno ripescato il corpo, grazie ai loro subacquei sono riusciti a ripescare il corpo, distribuiscono dalle ambasciate interessate delle fotografie di prova di questo povero uomo martirizzato. Si tratta quindi di John Kingdorf, viene ucciso con due colpi di pistola, lui è americano, passaporto americano di religione ebraica, disabile a caso di Nictus e sulla sedia a rotelle. Devo dire, è un caso particolare perché a gloria dell'equipaggio della nave c'è da dire che l'equipaggio della nave tentò nel momento stesso del sequestro della nave di mettere al sicuro tutti i passeggeri israeliani o di religione ebraica. Ci riuscì con tutti, tranne che con Klinghofer che essendo su una carrozzella era troppo ingombrante, eccetera. Quindi Klinghofer rimase in un certo senso da solo a rappresentare l'Israele, l'ebraismo, eccetera, tra i prigionieri di questa nave. Oltretutto era una persona che non sopportava soprusi e che non sopportava violenza, per cui fu molto aggressivo nei riguardi dei palestinesi. I palestinesi avevano paura perché avevano solo due persone, come apprendemmo dopo, avevano solo due persone che sorvegliavano una massa di gente e c'erano stati dei tentativi di reagire da parte di una persona dell'equipaggio che era stata ferita alla gamba, l'Angella si chiamava, era stato ferita a una gamba mentre tentava di saltare addosso a un palestinese, di disarmarlo. E quindi vollero in un certo senso dare un esempio per intimidire tutta la gente che stavano terrorizzando. Perché non era facile ovviamente solo quattro persone controllare una nave? No, uno con la sala ufficiali e il comandante, un altro con la radio e quindi rimanevano due persone sostanzialmente per occuparsi di tutti e fecero prendere Killinghofer da tre membri dell'equipaggio, non tre marittimi perché tra i tre membri c'era anche il parrucchiere per signora, perché la nave era una nave da crociera, quindi nei ponti superiori era un albergo a cinque stelle, nei ponti inferiori era effettivamente una nave con un equipaggio di marittimi e tutti i rei. Ma presero quello, un marinaio portoghese, un terzo marinaio, fecero buttare a mare il corpo di Killinghofer, fecero pulire tutto, poi li mandarono a cambiarsi in cabina, fecero buttare a mare anche tutti i vestiti insanguinati di questo e poi intimarono a tutti i prigionieri di tacere, usavano spesso l'interfono, dicendogli voi su questo dovete assolutamente tacere perché noi abbiamo preso nella cassaforte del commissario di bordo tutti i passaporti e li abbiamo trasmessi ai nostri amici a terra. Quindi i nostri amici a terra hanno tutti i vostri indirizzi e gli indirizzi delle vostre famiglie. Se qualcuno di voi cerca di fare il furbo e di non obbedire, magari noi verremo presi e verremo imprisionati, però un giorno si presenterà da voi qualcuno a saldare il conto. Quindi è stata una minaccia che è stata una minaccia efficacissima, che loro hanno ripetuto anche poco prima di scendere dalla nave, dopo che si erano arresi l'hanno ripetuta e che ha avuto un'efficacia notevole e ha indotto tra le altre cose passeggeri ed equipaggio nel momento in cui se ne andarono i palestinesi a negare che qualsiasi cosa fosse avvenuta a bordo. Nel momento in cui se ne andarono e salirono gli egiziani tutti dicevano che non è successo niente, non c'è stata nessuna violenza, riservandosi di dirlo. Quando la nave fosse partita, la giustizia italiana, nel momento in cui... Quindi nel momento in cui si chiude questa prima fase della vicenda, l'accordo è libertà di fuga da parte dei dirottatori, in cambio dell'incolumità di tutti i passeggeri e della nave. Quindi in quel momento... E c'è un accordo scritto, firmato da Craxi. In realtà da parte palestinese c'è un tentativo di far firmare due accordi. C'è un primo accordo che viene firmato dall'ambasciatore con il permesso del Presidente del Consiglio che garantisce a questi palestinesi l'incolumità, la libertà e il riavvio verso Tunisi, dove è la sede in quel momento dell'OLP. Ma all'ultimo minuto, evidentemente Abu Abbas era stato informato, non per la radio ma in qualche altra maniera, del fatto che c'era stata un'uccisione a bordo, viene ripresentato lo stesso documento a cui però viene aggiunta una frase. Qualsiasi cosa sia successo a bordo. E allora c'è un'esitazione fortissima dell'ambasciatore e del Presidente del Consiglio che esitano nel firmare questo documento. Esitazione che cessa nel momento in cui, frattempo le cose andavano avanti, nel momento in cui da Port Said, dal mio aggiunto navale, arriva una comunicazione, i palestinesi sono scesi. I palestinesi sono scesi dalla nave, si sono consegnati agli egiziani, non hanno più carta in mano, la nave è libera. E allora l'ambasciatore che è seduto al tavolo con Abu Abbas e Butorsgali prende quel pezzo di carta con la scritta a qualsiasi cosa sia successo a bordo, lo restituisce a Abu Abbas e dice non avete più carta in mano. In realtà glielo lancia quasi la cosa così. Non avete più carta in mano, è finita la cosa. In realtà non era finita, ma cominciava un fascicolo completamente differente della cosa. Quindi Abu Abbas, che è sempre stato ospite del governo egiziano in tutta la vicenda, lei lo ha visto anche di persona, a un certo punto si era tranquillizzato o era ancora preoccupato? No, no, lui, Abu Abbas, a parte il fatto che uomini del genere, è ben difficile dire se fossero preoccupati o tranquilli, sono delle sfingi e lei si trova a trattare con una sfinge e a sedere di fronte ad una sfinge di cui è impossibile interpretare sentimenti e cose. A Abu Abbas ritengo che fosse tranquillo comunque, che fosse tranquillo e che pensasse che la cosa si fosse conclusa bene e che nonostante i due errori che aveva fatto il personale a bordo, perché in realtà l'azione che doveva avvenire, l'azione a cui era destinato quel comando palestinese, era un'azione completamente differente. Quel comando palestinese, tra l'altro addestrato da Carlos, il più grande terrorista internazionale in quel momento, e Carlos era stato a bordo fino a Port Said. Trovammo la sua foto tra le foto delle feste, con questo famoso terrorista col capello di cartone, il capellino di cartone, la lingua di Menelicche, che festeggiava lanciando stelle filanti. Quindi davvero un grande intrigo internazionale. Questo era un comando suicida che doveva scendere nel primo porto israeliano toccato e fare quanto più danno possibile. Avevano a bordo l'armamento per fare questo danno possibile, nascosto sotto il letto di uno di loro. e si sono comportati in maniera così imprudente che a un certo punto un cameriere ha avuto dei sospetti e in loro assenza ha controllato le valigie, ha prendo le valigie e ha trovato delle armi. È corso a informare, ma non è corso a informare gli ufficiali della nave, corso a informare, questo noi lo ricostruimmo in seguito attraverso le inchieste nostre e gli interrogatori degli egiziani in una seconda fase. E corso a informare l'altro personale che si occupava del piano in cui c'erano le cabine. E questi per curiosità cominciarono ad andare a vedere, ci fu un movimento continuo di gente. I palestinesi si insospettirono, pensarono di essere stati scoperti e scattò perché avevano il piano di riserva. Il piano di riserva era, se vi accorgete che siete stati identificati e che quindi non può essere portato a termine il piano iniziale, ricorrete al piano di riserva che è quello di dirottare la nave. Per cui passarono al piano di riserva e al dirottamento della nave. Quindi non andò nulla come i tre e tre anni. Quindi questi palettinelli avevano sbagliato tutto. Avevano sbagliato la prima, anche perché avevano abbandonato quelle valigie con le armi incustodite, eccetera. E avevano ucciso delle persone, creando le condizioni per cui le cose non potessero in seguito andare lisce come Abu Abbas poteva aver sperato, eccetera. E quindi in quel momento ci fu il pomeriggio. Andammo a bordo con l'ambasciatore a Port Said, facemmo tutto un giro. Ci dichiararono tutti che a bordo non era successo niente, che in realtà anche se c'era stata questa segnalazione americana, una segnalazione vaga che non rispondeva a niente, la stessa cosa disse il comandante. Il comandante che poi però, alcune ore dopo, poche ore dopo, il nostro rientro al Cairo, ebbe un rimorso, così telefonò a Craxi e gli disse quello che era veramente successo. Quindi nella notte Craxi ha preso quello che era veramente successo. Però allora in questa fase viene dato il via libera ad Abu Abbas e quattro dirottatori di salire su un aereo diretto, dovrebbe essere Tunisi, anche se ci sono anche versioni contrastanti, eccetera. Gli americani che fin dall'inizio non erano d'accordo, dopo le spiego perché so come so che era Tunisi. Viene quindi dirottato dagli aerei militari americani e portato a Sigonella e inizia il caso Sigonella. Prima c'è la ricerca americana. Gli americani cominciano freneticamente a cercare qualsiasi notizia che possano, ci sospettiamo anche noi italiani. Tant'è vero che dal mio ufficio segnaliamo a chi di dovere qui in Italia, attenzione c'è qualche cosa che non va perché c'è un'agitazione americana fortissima ed è facile che succeda qualche cosa. E a un certo punto, tengo presente che in quel momento l'ambasciata americana al Cairo è una delle più grosse ambasciate che esistono al mondo. E per numero dei membri dell'ambasciata e per numero delle strutture e dei dipendenti dell'ambasciata. C'avevano 17 mila dipendenti in tutto il mondo. Attivano tutto quello che possono attivare. Fino a quando qualcuno dà loro notizia che da una parte dell'aeroporto del Cairo, l'aeroporto che si chiama Almaza, c'è l'aeroporto civile, poi un angolo che c'è la zona di Almaza, la zona di Almaza è l'aeroporto militare, ma stranamente al di sopra della recinzione, che è una recinzione con un muro in mattoni, si vede la coda di un aereo dell'Egipter, che non dovrebbe essere lì, perché in aeroporto militare non deve entrare un aereo civile. E quindi gli americani si insospettiscono e cominciano a seguire l'idea che quello sia l'aereo che deve portare via i palestinesi. E in effetti è quello l'aereo che deve portare via i palestinesi. E partono dall'ipotesi o qualcuno quest'ipotesi la formula per loro e li informa di questo che il volo sia diretto a Tunisi. Per cui si mettono d'accordo con i tunisini, torcono le braccia dietro la schiena i tunisini e dicono ai tunisini voi fate atterrare tutti gli aerei. Quando arriva l'aereo dell'Egipter che sta per scendere a Tunisi, voi gli fate iniziare la procedura di atterraggio. Quando è a metà della procedura di atterraggio gli negate il permesso di atterraggio in maniera che debba tornare in volo normale. Poi si mettono sopra con un AWAC, l'aereo radar, e l'aereo da trasporto dentro i nevi seal che aspetta. Nel momento in cui l'aereo radar gli dice c'è un aereo sotto quello là che ha fatto la procedura di atterraggio poi l'ha interrotto e è venuto via l'aereo viene identificato e tamponato, tampinato dall'aereo americano che lo costringe a deviare verso l'Italia. E deviano verso l'Italia perché sono convinti che Sigonella sia una base americana. Invece Sigonella non è una base americana. È una base italiana concessa in uso agli americani soltanto per scopi NATO. Cioè soltanto per azioni già approvate in ambito NATO. E quindi già approvate anche dall'Italia. E quello è l'errore tragico che fanno in due quella notte. L'uomo del Ministero degli Esteri americano che autorizza la scelta di quella base e il militare americano che comanda a Gaeta che permette questo e non chiarisce che c'è questo. Che Gaeta c'è il comando della sesta frotta. Esattamente. E non chiarisce che è la cosa. E allora è così e inizia il caso Sigonella che tratteremo nella prossima puntata. Però ci sono ancora due piccole questioni diciamo da risolvere. Intanto ricordo che l'Egitto come accennava era in rapporti sardissimi con gli americani perché dopo la pace di Camp David e la pace con Israele diventa un caposaldo fondamentale per gli Stati Uniti dell'aria. Gli Stati Uniti finanzieranno Mubarak e governo in cambio della pace con Israele ci saranno accordi anche militari ma soprattutto economici quindi enormi aiuti che gli americani daranno per anni all'Egitto che diventa di fatto un alleato americano nella regione anche se poi con delle sfumature diverse. Quindi da parte escludiamo la piccola questione era capire come gli americani avessero saputo dell'aereo appunto lei ce l'ha raccontato perché alcuni è sembrato a un certo punto che erano stati gli egiziani a dare l'informazione agli americani. Anche noi all'inizio eravamo di quell'idea lì tant'è vero che in un mio rapporto che feci all'epoca io scrissi è probabile che le coordinate dell'aereo diretta Tunisi siano state passate agli americani da qualche membro del governo e il riferimento era un riferimento chiaro al ministro della difesa che era la persona si chiamava Bugazzala allora era la persona più vicina agli americani intenzionato a mettere in crisi il presidente per la possibilità anche di potergli eventualmente succedere nel caso di una crisi di dimensioni internazionali di dimensioni così forti da portare alla sostituzione del presidente egiziano e allora l'ultima cosa è che viene spesso sottovalutato il fatto che mentre c'è lo scontro a Sigonella il braccio di ferro tra l'Italia degli Stati Uniti poi lo vedremo appunto nella prossima puntata la nave però rimane a Porto Said a Ghile Lauro e gli egiziani con torta ragione non so se saranno a scuso o meno però dovendo investigare anche sulla vicenda eccetera di fatto bloccano la nave quindi mentre succede tutto quello che poi la nave arriva in Porto il pomeriggio il primo pomeriggio primo pomeriggio nel tardo pomeriggio c'è la visita di entrambi gli ambasciatori quell'italiano e quell'americano non mi ricordo il nome di quell'americano era uno di un ambasciatore di origine greca ma c'è questa visita che dura a lungo e poi dopo in serata a bordo sale il grande tribunale per la sicurezza della Repubblica Egiziana che vuole indagare sull'intera vicenda perché l'intera vicenda ha dei risvolti da un lato criminali e dall'altro lato risvolti di carattere di relazioni internazionali tra tre paesi e quindi politici oltretutto poi a bordo ci sono passeggeri di moltissime nazionalità differenti quindi alcuni tra l'altro che non possono scendere perché ci sono passeggeri israeliani che in quel momento non sono graditi in Egitto e quindi l'inchiesta si deve svolgere a bordo allora questo grande tribunale sale e comincia ad avviare un'inchiesta che si prolunga durante la nota e questa inchiesta finisce col far paura all'equipaggio anche perché all'equipaggio ci sono tre di loro che sono stati coinvolti nel buttare a mare che l'ingoffere eccetera c'è il fatto che non hanno reagito pur avendo una chiamiamola superiorità di forze notevole eppure avendo avuto in parecchi momenti delle occasioni per poter reagire c'è stato addirittura un momento come risulterà dagli interrogatori successivi che uno dei due palestinesi che sorvegliavano tutto questo grande salone in cui avevano concentrato il personale che stava a bordo dovendo fare qualcosa allacciarsi una scarpa ha preso il suo calazio l'ha dato da tenere al barista che ci aveva vicino e il barista italiano terrorizzato ha tenuto il calazio così al porto del palestinese quindi l'equipaggio ha paura ha paura non vuole perdere tempo le famiglie sono terrorizzate a casa perché la cosa è finita su tutti i giornali ha una risonanza internazionale vogliono tornare il più presto possibile e soprattutto non vogliono dover rispondere alla giustizia egiziana in cui non hanno fiducia dicono ma cos'è la giustizia di questo paese in fondo non è un paese europeo non è un paese come l'Italia eccetera aspettiamo che arrivino i carabinieri rispondiamo a loro e cose di questo genere per cui a bordo c'è questa area di paura di paura continua che si innesta su più di due giorni di sequestro quindi di terrore e si innesta su quella paura residua che hanno lasciato le minacce dei palestinesi di rivalersi sulle famiglie se comunque ci sia qualcuno e gli interrogatori degli egiziani in compenso sono interrogatori duri perché gli egiziani vogliono la verità sono giudici duri sono i migliori giudici e a un certo punto succede una cosa folla che la nave decide di di tentare di fuggire da Port Said e vengono presi gli egiziani che sono a bordo vengono buttati a mare viene preso il console italiano che era a bordo viene buttato a mare viene preso il mio aggiunto navale viene buttato a mare la nave chiude i portelli e tenta di uscire dal porto gli egiziani la fermano immediatamente la riportano arriva e poi il ministro alle sei di mattina questo succede alle cinque cinque mezza di mattina alle sei di mattina il ministro della difesa telefona all'ambasciatore e gli dice le metto a disposizione un elicottero mandi a bordo chi vuole o entro mezzogiorno è tornato l'ordine e può risalire il tribunale per la sicurezza e completare i suoi lavori oppure salve un battaglione di fanteria con l'ordine di aprire il fuoco se c'è la minima resistenza e allora l'ambasciatore mi chiama io e due carabinieri in borghese perché i carabinieri io gli ho permesso di avere l'uniforme i carabinieri erano accreditati solo per la sicurezza interna dell'ambasciato e quindi fuori dall'ambasciato non potevano portare con due carabinieri in borghese vengo spedito su un elicottero ex russo un Mi8 che tra l'altro colava olio da tutte le parti vengo spedito a Port Said e salgo a bordo ma questo credo rientri nella seconda barra e finisce la vicenda però questo era per ricordare come mentre tutta la vicenda di Sigonella a Roma c'è ovviamente anche la paura che l'Egitto e qui sottolineiamo il ruolo dell'Egitto si metta anche di traverso perché è stato garante dell'accordo per la liberazione dei palestinesi e quindi in certo qual modo possa usare la nave ancora nelle acque egiziane come una sorta di ostaggio per costringere diciamo per fare pressione sugli italiani appunto a dare via libera a bua bassa ma di questo appunto pareremo nella puntata successiva io la ringrazio ma alla fine un'ultima battuta perché poi lei ha avuto un ruolo anche poi successivamente e quindi per la sua esperienza le chiederei un po' la vicenda che ha riguardato un po' tutto Craxi dopo la vicenda di Sigonella e cioè la versione di De Michelis che diceva che appunto che Craxi non è mai stato perdonato dagli americani e che c'è uno zampino americano anche nella caduta del governo Craxi lei crede a questa tesi pensa che sia io no non credo a questa tesi la discutevo con De Michelis eccetera non ci credo perché non c'era bisogno di uno zampino americano si erano creati delle condizioni tali quando scoppiò tutto lo scandalo Mani Pulite per cui secondo me era impossibile per Craxi riuscire a sopravvivere in una posizione di governo io ho sempre visto la cosa di Mani Pulite come la scoperta da parte dell'Italia che c'erano due peccati capitali un peccato capitale era la collusione della politica con l'industria a nord e l'altro peccato capitale era la collusione della politica con il crimine organizzato a sud come capo respiratorio per il peccato a nord è stato scelto Craxi per l'opinione pubblica l'Italia seglie sempre dei capi respiratori e come capo respiratorio per quell'altro peccato è stato scelto Andreotti Craxi ha accettato il ruolo di capo respiratorio e se ne è andato in esilio in un certo senso volontario perché avrebbe potuto combattere e ne sarebbe probabilmente uscito come Andreotti o forse meglio di Andreotti ma ha accettato la cosa e se ne è andato Andreotti non l'ha accettata ha combattuto e l'ha spuntata alla fine e allora quindi abbiamo anticipato anche un po' i temi della prossima vita però quello di cui sono sicuro è che gli americani sono stati contentissimi di quello che è successo a Craxi perché non gliel'avevano assolutamente perdonato cioè diciamo le due non sbandate anti-americane ma i due momenti di contrasto maggiore tra l'Italia e gli Stati Uniti sulla politica internazionale su un punto di politica internazionale sono entrambi col governo Craxi uno è il caso di Sigonella e l'altro è il caso dell'attacco americano nel golfo della Sirte è il tentativo di uccidere Gheddafi e anche lì le strade di Craxi e quello degli americani divergono gli americani sono giganti accendo brevemente Craxi informò Gheddafi dell'attacco americano quanto stava avvenendo eccetera e quindi Gheddafi si salvò non fu preso di sorpresa e si salvò e allora generale grazie grazie per questa testimonianza io allora vi ricordo di iscrivervi al canale di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche e vi do appuntamento appunto alla puntata successiva di questa serie dedicata proprio specificamente al caso Sigonella Giovanni Cucchi ancora grazie e alla prossima occasione alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti